E' l'inizio Di una nuova fase dell'insegnamento dello stare in internet, del navigare in internet, la creazione del cittadino digitale Mi sono occupato sin dal primo anno del progetto Rispiro Nuove Tecnologie organizzato dall'Istituto Avogadro in collaborazione con la Polizia Municipale di Torino Diciamo che tra noi ragazzi sicuramente i fenomeni legati al furto d'identità e alle frodi online, in particolare sotto l'aspetto economico, sono più rare Sicuramente appunto nella nostra fascia d'età il fenomeno più comune è quello del cyberbullismo Una ragazza pubblica una foto di se stessa e comunque viene insultata e derisa da suoi amici anche su Facebook Alle volte può essere una cosa che succede e basta, ma comunque quando gli insulti diventano pesanti e magari poi si comincia con messaggi personali Bisognerebbe in qualche modo fermare questa cosa Il 12,1% del campione riconosce l'avere utilizzato questi social network per diffondere messaggi offensivi o minacciosi Proprio per loro dichiarazioni, nei confronti di coetanei Fra questi il 13,6% sono ragazzi e l'8,1% delle ragazze Che dichiarano proprio, avendo fatto a noi ma non li divulghiamo, loro nome e cognome Di avere umiliato persone con materiali offensivi Prima con pattegolezze e poi con materiali offensivi Secondo me è molto frequente come episodi questo cyberbullismo Però la maggior parte sono leggeri, diciamo nulla di molto grave Solo che non si ferma questo fenomeno Ma perché molte volte comincia per scherzo il ragazzo che fa lo scherzo a quello Poi ci è potuto brimbare l'identità Per cui tutti nascondono O pensi che ti scriva un amico, una persona affidata Ecco, io quello che voglio sottolineare E che ho detto ai ragazzi O a solo accennato Che non è uno scherzo Ma ci sono responsabilità benali gravissime Dietro tutto questo La rete non deve essere demonizzata Perché offre un grande aiuto E un modo per socializzare Per andare avanti Per raccogliere informazioni Allora a mio avviso bisogna E proprio dire ai ragazzi Dire giusto Voi usate questo Però fate attenzione a questo C'è questo, questo, questo Si corrono questi dischi Non prestatevi a questo State attenti anche per la vostra sicurezza personale That bird won't singe Grazie a tutti Grazie a tutti